Questa è la Pasqua, il che si stimola nel colpiero. Questa è la Noce, il che può rinunciare ai nostri spazi e aiutare il Signore. Questa è la Noce, il che lo salva nella oscurità del mar. Questa è la Noce, il che Cristo ha vencido la nuova e il Signore. Questa è la Noce, il che Cristo ha vencido la nuova e il Signore. Questa è la Noce, il che Cristo ha vencido la nuova e il Signore. Questa è la Noce, il che Cristo ha vencido la nuova e il Signore. Questa è la Noce, il che Cristo ha vencido la nuova e il Signore. Questa è la Noce, il che Cristo ha vencido la nuova e il Signore. Questa è la Noce, il che Cristo ha vencido la nuova e il Signore. Questa è la Noce, il che Cristo ha vencido la nuova e il Signore. Questa è la Noce, il che Cristo ha vencido la nuova e il Signore. Questa è la Noce, il che Cristo ha vencido la nuova e il Signore. Questa è la Noce, il Signore. Questa è la Noce, il Signore. Questa è la Noce, il Signore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.